Cristian Savani Siamo stati bravi dopo aver perso il primo set a reagire così, stasera non sono andate parecchie cose ma siamo solo all'inizio, è normale, però siamo stati bravi a mettere a posto quei fondamentali che ci hanno permesso poi di vincere la partita Momenti importanti, però è venuto fuori il carattere di questa squadra che ha mostrato anche grande solidità Sì, dobbiamo ancora lavorare tanto, io penso che abbiamo delle potenzialità enormi, io ci credo tantissime in questa squadra e dobbiamo ancora lavorare tanto Sull'ultima settimana per poter lavorare consecutivamente in palestra poi iniziano i grandi impegni ogni tre giorni con la Champions League Come dicevo, dobbiamo allenarci tanto, però tempo non ce n'è, quindi potenzialità ce l'abbiamo, sarà compito di Alberto mettere a disposizione le potenzialità dei singoli per far grande questa lupa